La morale anche di Boris Reggiani su questo titolo vinto da Valentino La morale è la solita, Valentino Rossi è l'uomo da battere anche quando non vince Valentino Rossi è quello che vince le gare anche quando non c'è bisogno di vincerle e quando non c'è bisogno di rischiare per farlo è quello che vince queste gare per vincere un mondiale perché non lo vuole vincere senza aver vinto anche la gara in Gran Premio lui questo mondiale avrebbe vinto tranquillamente lo stesso standosene a guardare che esistono, faceva il diavolo a quattro nei primi giri e badarlo fino alla fine ma non gli piace fare così, non lo fa, lo fanno gli altri, non lo fa lui questo fa la differenza, talenti come Valentino Rossi ce ne sono pochi forse ce n'è qualcuno ma la differenza degli altri talenti con Valentino Rossi è proprio questa che lui vuole vincere anche quando non c'è bisogno ma ora non c'è bisogno